Poi ci commissionò la casa editrice a me e Greg una rivista da fare tutta nostra, cioè idee scritta, disegnata, ci permettevano anche di scegliere gli altri disegnatori da metterci dentro, ci lavoriamo due mesi, poi andiamo a portare il progetto, la casa editrice chiude, fallisce. E noi da lì abbiamo cominciato a suonare perché ha detto vabbè senti, è andato tutto così, cominciamo a suonare, almeno guadagniamo qualcosa nei locali. Però gli è andato bene, poi suonando è andata subito bene. Beh sì, però io in realtà le prime volte andavamo a suonare per lavorare perché veramente i fumetti aveva chiudato la casa editrice, era l'unica che ci faceva lavorare.